Ciao a tutti che sono tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Oggi c'è lo speciale di Natale Fuck yeah C'è il mondo festivo da esplorare signore e signori Il mondo festivo Non ho mai aperto Vediamo che Kaiser è Ok eccoci qua Siamo nel mondo festivo e la texture Sembra Festiva Comunque c'è una strada qui Che io percorrerò in maniera molto Disillusa E qua c'è una casetta vuota Perché le casette vuote Sono lo spirito del Natale E qui c'è una cassa Con un jukebox Il jukebox Fai mettere anche la mappa qui a portare di mano Allora vediamo La mappa mi dice solamente che sono in un cerchio Perfetto Bellissimo E il jukebox? Beh il jukebox mi sa che lo posso piazzare Giustamente Buongiorno signori Ma chi siete? Cosa vendi di bello? Uno smeraldo Per 20 pezzi di carbone Buon Natale Te sei rimasto chiuso fuori perché sei un pirla Cosa ti vendi te? Hai pantaloni Pantaloni di ferro con gli smeraldi Morisci pure te Buongiorno signore Anche lei è l'elfo di Babbo Natale La pietra focaia e acciarino Per tre smeraldi Tu mamma E questo il vero spirito nazalizio ragazzi E questo Una casetta bella fatta E no pure le calze però E no E no Tocco di classe Tocco di classe Però boia Non posso uscire dalla porta da cui sono entrato Quindi esco dalla finestra Perché io sono Sulla power Fuck you bitches Fa un culo Oh vabbè cosa c'è? La mansione delle bestie Le peggio cose Qui c'è un Oh l'albero di Natale gigante L'albero di Natale La bestia Sembra l'albero Ora arriva il Grinch È l'albero del Grinch questo? Ah questa è una cesta E la cesta ha? Niente un po' di meno Che il disco del gatto Mamma mia che belino Il disco del gatto Ma proviamolo subito Fuck you guys Ma Ma quasi quasi gli do fuoco No no Non si può Non usiamo il Grinch Questo è lo speciale di Natale Surreal Si festivo Ok andiamo qui Cos'è sta roba? È È una mansione È la mega villona No ma che bella le porte Le Le porte Oh Eh no ma non mi puoi fare sta roba E a dove si entra? Dalle porte Io non sono così mainstream Cosa credi? Io passo dalle finestre Perché io posso Io può Ah guarda Nello scorso video di Minecraft per l'Xbox C'era la pantegana appesa al muro In sto episodio In sto episodio La cazzo di lina Peggio cosa Peggio cosa A cazzo di lina Però io non posso aprire le porte Aprire le porte è troppo mainstream Quindi le spacco Insomma mai c'è qualche cesta Qualcosa di bellino da Da prendere No No si sta anche facendo notte Va là sopra Che ci sono tante casette belline Mmm Fuck you Fuck you Mangia la torta Che ho bisogno di cibo Grande Grande mago Grande mago E qua non c'è niente però Posso prendermi la torta Me la porto dietro No non si può Beh peccato Però che non manco legno Voglio vedere io come faccio Se trovo un creeper O qualcosa del genere Ah no ci sono i gol Bravi Cazzo Babbo Natale Eh signor Babbo Natale Complimenti Voglio farle anche Complimenti per la cintura Ho visto che ha vinto La sfida Wwe Sì sì Ehm Come non sapevi Babbo Natale Wrestling No Ok Va bene Guarda che carini Gli elfi Che corrono Che sguazzano Nell'acqua A luna di notte Allora qua Non so se c'è Cosa di bellino Guarda c'è un letto Sarebbe comodo Un lettino Buongiorno signore e signore Perché lei è già vestito di blu Cos'è Lei è speciale Vende uno smeraldo Per la carta Ma morice male Fa pure qualcosa di bellino In queste zone Una bella Ma non c'è letto Non c'è letto Un'altra mansione Più grande E io vorrei far notare Non ho ancora incontrato Neanche un mob Il che È cosa buona È giusta È fonte No ok Con calma eh Però io vado qua sopra Vado qua sopra Un kart Ti droghi C'è la metropolitana E va che roba C'è la metropolitana Dopo andiamo anche lì Però prima Voglio vedere qua Cosa c'è Che fotte sega No Un altro albero No Questo albero È troppo bello Questo albero è troppo bello Abbiamo bisogno del Grinch Però Qua non va bene Devo rompere Devo rompere Oddio ho rotto qualcosa Oh mio dio cosa ho fatto Surreal hai rotto l'albero Surreal hai rovinato il Natale Oh mio dio Surreal Grinch Le peggio cose 1 1 punto Esclamativo I calderoni Va che bellino Sembra lavandini So much fun Letty see Usa il letto Beh sì I mostri nel paragide Kaiser li vedi Tei mostri L'armatura C'è l'armatura Il vestito da elfo No Che bellino Surreal elfo Hashtag Surreal elfo Peggio cose Punto esclamativo Oh mio dio Ok Dove altro posso andare Di qua posso andare Come si va di qua Per di qua Si va di qua Ci sono L'enchantment Table Che non mi servono Un Kaiser Di nulla Qua ci sono Delle cose C'è qualche Cesta Quella potrebbe essere Una cesta No Non è una cesta Cos'è sta roba Non lo so Non lo so neanche Potessere Quindi noi Dalla casa di babbo natale Che più casa La fabbrica Prendiamo la metropolitana E andiamo a qualche parte Non so dove In realtà Ci sono due direzioni A questa metropolitana Come tutte le metropolitane In realtà Non tutte Però vabbè E Non ho un cart Però Me lo danno loro il cart Ah 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 Là c'è un ponte Devo andare di là Devo andare di là Perché sicuro Quel villaggio È ciò che cerco Però io In molta tranquillità E con molta Molta calma Cerco Di non attirare L'attenzione Di nessun mob E lascio Venermi Perfetto Ma cos'è Cos'è È un bambino Nero Troppo cresciuto A cui la nonna Ha fatto Un orrendo Maglioncino Povero Oh mio Povero Oh merda C'è il creepa Oh merda Ti ammazzo Ti ammazzo Di botte Per fortuna Che scivola Sul ghiaccio Se no Va che esplode Beh forse è meglio Se esplode Ma nottano da me Pacchetti confezionati Dai tanti schiavi Di babbo Dai tanti elfi Di babbo natale Grazie